a tutti ragazzi sono il re simone e in questo video tutorial vi farò vedere come eliminare il proprio canale youtube e creare un nuovo quindi vi ricordo che eliminare il proprio canale significa null eliminare tutti i video tutti gli iscritti tutti i commenti tutte le playlist eccetera eccetera come facciamo andiamo su impostazioni youtube avanzate elimina canale qui ci avvertirà tutto quello che stiamo per fare cioè tutte le nostre iscrizioni eccetera eccetera e vabbè noi leggiamo tutto se ci serve e eliminare il canale se vogliamo eliminare il canale a questo punto accediamo andiamo sul nostro nome in alto il mio canale e qui creeremo il nostro canale in questo caso già l'ho lograto comunque molto semplicemente del vostro nome che volete è tutto come vedete il nostro male è nuovo di zecca per questo video tutorial è tutto bella ragazzi